Ora siamo pronti, questa è via della conciliazione e tra poco signore e signori, grande spettacolo di San Pietro eccolo sulla vostra sinistra, facciamo uno zoom San Pietro contro il sole, questo in primo piano non è la terra il casco di Andrea, eccoci Ecco San Pietro, è lì nella finestra il Papa, al bagno in questo momento potete vedere i piedi del Papa e la Papalina Bellissimo, San Pietro contro il sole, il coronato del territorio e l'obelisco che è cresciuto di qualche centimetro che è stato concimato, ora passo e chiudo, basta